Buongiorno, mio principe. Mio principe? Lo adoro. Desiderate che vi facciamo il bagno? Farmi il bagno? Tutte e tre? Nudo? Ok, d'accordo, beh, io torno subito. Mamma! Mamma! Oh, ehi, ehi, senti. Sono fuori di testa ora, perché ci sono tre ragazzi in camera mia ora e vogliono farmi il bagno. Ok, amore, prima di tutto calmati, ok? Sai che siamo in un altro paese e sai che hanno tradizioni e costumi, modi di fare le cose diversi. Ti devi adeguare. È una cosa principesca. Ti fanno il bagno, ok? Quindi fai il principe.